e molto è a buonasera e finalmente arianna e non devi rompere i coglioni e o allora ragazzi questa sera c'è io non ho sistemato qua per aprire i pacchi cazzo una coperta la miseria scusate ragazze che sono un po ancora in alto mare perché ho guardato tiktok fino adesso scusatemi come state io voglio aprire i regali quindi speriamo passino la svelta questi 18 minuti no boh tu non mi devi parlare mai più no ragazzi ho fatto un errore allora facciamo una cosa in questi 18 minuti un attimo allora perfetto per un 29 anni di guardare tiktok e mi sto allenando per i 40 devo fare il liquido per la seconda tiktok l'ho finito mi sono anche tosato una settimana fa ormai belli lì dietro sono contento piacciono allora per fare il liquidino ma quanto ce n'è rimasto ma è vuoto questo scusa scusate ok ehi grazie per il ridino nerd ecco perché ci metterà 18 minuti sì ma no questo qui è il peric della tabaccheria e devo mettere circa 2 ml qui dentro avete sentito che bel rumorino che smr adesso non più finito lo richiudo qui adesso c'ho la boccia qui del liquido 50 e 50 che però mi sbrodolerà ogni cosa questa perché non so perché ma sbrodola ultimamente sbrodola quindi speriamo di non sbrodolare quindi andiamo delicatamente eh eh mi sbrodola perché qui si crea un orca miseria mi sono sbrodolato lo sapevo io no non la ciuccio perché c'è un pellino di nicotina qui quindi non è molto indicato ciucciare ragazzi non ciucciate mai i liquidi della sigaretta elettronica poi vi viene la disenteria rischiate una merda rischiate oh ma perché non va giù bene no così tutto delicatino perché il buco è troppo stretto e poi dopo sapete no voilà ma mi so se vede beh alla fine la viscosità è quella di uno sciroppino quindi ci sta ci sta si rimette il beccuciello si chiude o no sono ancora sbrodolato devo andarmi a lavare le mani ragazzi ok torno subito eh ve lo prometto sembra che sia una cosa così un pochino raffazzonata questa live ma vi assicuro che non è così almeno spero eh ho preso la pipetta dosatrice dov'è la pipetta qua la pipetta qua la pipetta eccoci eh tra l'altro è facile da lavare i residui di liquido perché essendo a base alcolica eppure idrosolubile questa naturalmente è una cosa che mi sono appena inventato non è vero però con l'acqua va via darlo invece sono qui ho fatto la figura di merda tra l'altro amici oggi non festeggiamo solo a me cioè sì in realtà sì festeggiamo a me e basta però voglio rendervi omaggio mi sono comprato per festeggiare la birra dell'ognomo la ciuff c'ho anche il bicchiere della ciuff quindi l'altro è un po' è un po' grossa in realtà cioè probabilmente ne esco ubriaco probabilmente è molto buona di nuovo la ciuff ciuffa ciuffa ma è 8 gradi la ciuff ma sono imbecille non lo sapevo fosse 8 gradi è da 75 questa bottiglia non pensavo fosse 8 gradi infatti l'ultima volta l'ho bevuto ho detto cazzo ma è normale che una bottiglia di birra non era questa era quella piccola una bottiglia di birra mi dà la testa infatti e poi mia mamma mi ha comprato questi questi tra l'altro avete visto cioè ha sbagliato perché purtroppo me li ha comprato per i 92 anni ma io ne faccio 29 ne faccio non ne faccio 92 e vabbè sono le mamme che vogliamo dirgli cioè ha sbagliato faccio che l'inverto e va bene lo stesso però dai per questa volta passi sarà confusa però perché sarà confusa perché perché sì faccio 29 anni ma è perché sono nato nel 92 sarà lì che sei confusa eh marca miseria eh sì vanno comunque bene perché sono nel 92 tiriamo fuori che voglio arrivare pronto eh mi puzza di merda si mangiano queste mi confermate sì sono edibili e cera d'api posso mangiarla dopo no c'era lo scotch di Thanos qua era ineluttabile allora perché mettono la cera nel pistacchio non si accende poi faccio fatica ad accenderle ma la torta non l'ho presa tutta perché la torta è questa qui sembra una merda da vedere però in realtà è molto bella è la torta mimosa vedete ha tutto il pan di spagna sbriciolato sopra perché fa l'effetto della mimosa poi dentro c'è la crema e credo ci abbia messo tipo anche le pesche sciroppate e poi il pan di spagna imbevuto la pizza di patate no non penso ci stiano le candeline comunque perché è molle un pochino cioè si mangia un po' al cucchiaino già si è anche ribaltata un pochino un po' di là no ma me la smerdo però che fastidio così va bene va bene l'accendito funzionerà chi lo sa no dai l'ho detto no ma scusa si è acceso per un attimo ha sempre funzionato volevo fare la gag ma non funziona per davvero vado a cercare un altro accendino corre ma perché non sento le sub ma vado a cercare un altro accendino corro eh mancano sette minuti cazzo 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 ma 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 Grazie a tutti. 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 Io ci tenevo. Grazie a tutti. 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 Esce fuori tutto. Allora. È un po' l'ortacoltelli. È un ceppo per i coltelli. Dove, tra l'altro, è fatto di spazzole. Avete capito? Aspettate, metti il coltello. Adesso questo qui non è fatto, però lo metti così. Il tipo di ceppo lì è buonissimo. Che culo. Come che ficcata è inutile. È utilissima. Quindi questo era uno. Vedi? Potete perché anche togliere questo. Lavarlo. E poi rinfilate il tutto. Consigliatissimo. Solo che pensavo fosse effettivamente più grosso. Cioè, ci posso mettere i coltelli lunghi, massimo... Boh, adesso vedremo. Vedremo. Avremo modo di testare. Chissà. Allora, vi dirò. Questo qui l'avevo comprato io. Comunque non è un regalo. Cioè... È un regalo, nel senso che... No, qui forse ho capito cosa c'è. Aprirò questo. Questo è molto leggero. Guardate il mio indirizzo di casa. Questo è molto leggero. Hanno messo l'etichetta sopra per non farmelo aprire. I bastardi. Ah, questo è... Oh, è aperto. Mi ce l'hanno spruzzato dentro. Amici, questa qui è una cosa che spero che funzioni. È praticamente una specie di smalto per non mangiarsi le unghie. Fatto tipo a pennarello, però. Ma l'odore è buonissimo, non lo mangio. Non funziona. Probabile. Probabile che non funziona, però non l'ho mai provato. Ho detto, ma... Ci... Ci provo. Ragazzi. Ci provo. Magari smetto di mangiarmi le unghie. No. Però io solo ho paura che metti che mi piace e me ne mangio ancora di più. Eh. Poi. Allora. Voglio aprire questo qua. Eissa. Voglio aprire questo qua. Qua dentro secondo me ci sono due cose. Porca miseria. Ma fateci mettere il veleno per i topi. E che poi muoio... E non è stonx. Ma porca miseria. C'è il cartone, ma non il perillone qui. Eh, ma Arcadia. Averti intorno ai coglioni tutto il tempo, però mi spacco le palle. Cioè, capito? Oh, allora. Qua ci sono due cose, appunto. Qui c'è... Un Black Fox. Al contrario, così. Black Fox. Ed è un coltellino. Pocca miseria quanto è duro. È un coltellino molto carino. Mi piaceva. L'ho preso. C'è un coltellino. Ed è tu lo apri e diventa... Con la lama. Così... Lo posso usare per aprire i miei pacchettini. Senza usare questo qui che l'ho tirato fuori due giorni fa e non ci avevo pensato effettivamente. Ma di solito usavo le forbicine per tagliare le unghie. Che non ho. Infatti lo usavo solo per aprire i... 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 I pacchi. Bello. Mi piace. Come si chiude? Ah, si chiude normale. Si chiude. Molto carino. C'è la clipettina dietro. Bello. Scatola. Io ce ne dovrei fare. C'è un doppio fondo pieno di coca? Non credo. Ma... Cosa... Cosa? Ma siamo stronzi. Poi... Mi sono preso... L'orologio nuovo. A saperlo prima mi prendevo anche un accendino nuovo. Ma mi sono preso l'orologio nuovo. Che è la versione nuova di quello che ho già adesso, semplicemente. Chissà se mi tagliavo per Maban su Twitch. Facciamo gli unboxing come si deve. E' saldato? Da sotto si apre. Prezzo... Questo qui è il GTS 2e. Che costa... 129€. Se no c'è anche il 2 Lite. Che costa... 89€ mi pare. Puzza di Fausto. Questo. E come vedete ha pure lo schermo finto. Andiamo... A slinguettare. Ma chi sono io? Babbo Natale! Lerican! Grazie! Ma deve essere beccata pure Tarlo. Quel mozzone. Ma io mi sono tolto una pellicina. Questo qui... Io lo preferisco... E... Questo... Cioè... Mi piace molto la Mazfit. Ma semplicemente per l'unico... No, in realtà è molto bello tutto. Però... Lo preferisco a molti altri. Ma come sia? Per davvero così si faceva. Perché la batteria dura due settimane. Io gli smart non c'ho voglia di star lì a caricarlo ogni cazzo di giorno e mi rompo i coglioni. E no! Ma che manuale! È spessissimo! No, è che stavo cercando di sganciarlo da sotto ma invece bastava stracatare. È bellissimo tra l'altro. È da qui che si vede la qualità di un prodotto. Qui c'è... Andrà bene... Quello vecchio? Secondo me... No. La pellicola è anche dietro. Eh... Ma secondo me si è incollato qui. Eh... Tra l'altro il cinturino tanto poi lo cambio. Anche se ne fotte. Chissà se andrà bene. Sì. Sembra andar bene. Bello. Bello. Poi vi farò una rece più avanti. Oppure li metto entrambi, sì. Sono pieno di pacchi, ragazzi. Sì, effettivamente mi sembra quasi uguale il cavetto di ricarica. Vabbè. Un attimo, eh. Scusate. Sono un po' le... Non sono... Non sono abituato a fare queste cose. Però mi piace, quindi chi se ne fu. Sibillismo è buono... Sibillismo è buono... Sibillismo è buono... Grazie, Jack! È struttore da altro che... Non ho... Grazie a Gray, si chiama anche a Keiser. Adesso possiamo continuare Allora qua Sistema operativo dell'orologio è proprietario Non è un sistema operativo Qui amici C'è questa cosa qui invece Una fila coltelli Portatile, di quelli piccolini Se l'ho preso, praticamente si usa così Adesso io Funzionerà? Facciamo questa prova Dammi un foglietto Un foglietto di carta Come fanno nei video, no? Guardate Tagliava meglio prima Tagliava Me l'ho rovinato Un raidino Grazie, NoobTube Non è a menti No, questo qui era per affilare il coltellino Era E poi è della Wusthof Oh, la Wusthof è quella che fa i coltelli Tra le marche più buone di coltelli Sì, in effetti quello curvo Non è una grande idea Affilarlo Secondo me mi servirebbe il cuoio Per dargli l'ultima, no? Meglio Meglio Forse su quello Fammi vedere come taglia questo qua Magari la carta, ragazzi E questo qui taglia Per essere un coltellino Più o meno Eh, dai Per essere un coltellino del Quanto costa? 20 euro Taglia Per il burro È perfetto, ragazzi Ma che prenditi la pietra? Ci ho pensato di prendere la pietra, Dabbo Ho pensato Ma proseguiamo Proseguiamo, ragazzi 29 anni sale la passione per la... Mi sono entrato in fissa Sti giorni, ragazzi Saporita Allora, qui non ho idea di cosa sia Ma guardate l'indirizzo Non guardate Smettetela E questo è un regalo Questo è un regalo Questo è un regalo che mi avrete fatto voi Che schifo, ragazzi Un libro è No Un libro fatto di caramelle Vediamo un po' Questo me l'ha fatto qualcuno di voi Tanti auguri Signor Morelli Da Alessandro Ma quale Alessandro? Chi è? Ma è troppo generico Alessandro Scusatemi Oh, come si Sarà Alessandro Del Piero Forse No Ah, ce lo scotch Non so io cos'è questo Guardate, c'è Sono i sotto bicchieri Di pelle Da 800 gotico Naturalmente Ma non è la parte interessante Thank you for choosing Amerigo Ci sono I cubetti C'è anche la pinzetta C'è Però ci sono I cubetti d'acciaio Per il whisky Scusate Grazie Alessandro Comunque Non sono quelli tossici Sono d'acciaio Sono C'è anche la custodia Di plastica Di pelle Beh, quindi Questi sono Molto apprezzati Mi prude Ah, la scapola Questo pesa Come le bestie Cosa c'è qua dentro? Non mi guardate Basta Non mi ricordo mai La marca era Amerigo Make it special Anche se penso che uno valga l'altro Non è che Una volta non si usa Il ghiaccio ti annacqua Il whisky Usam Ma che Veramente Eh Grazie Tappuccia Aspetta E si Bronco Mi sa che l'avevo messo Nella lista Quella volta lì E' un altro regalo Questo Si festeggia il mio Cumpleagno I miei 29 anni Ma è tutto Stropicciato Il bigliettino Grazie a tutti Degli auguri Naturalmente Belli Grazie 92 anni Si Buon dolce Compleanno Moro Da anonimo Che mi imbarazzo Easy Ma ho capito Ma scusate Ma io li voglio sapere Ma li voglio sapere Li voglio Come ti imbarazzi Easy Dai Fatevi avanti Ragazzi I kitkat gold Che buoni Cazzi Al caramello Come io sto sempre Come io sto sempre da qua Ah no qua Guardate che belli Che sono Sono Belli Dopo magari più tardi Mi lascio fuori uno Più tardi Lo zuccio Sono in trappola Sono in trappola Poi Questo qui Che tanto lo so Cos'è questo Allora Eh Si vede tutto Apro qui Questi Grazie Always È un SSD Della Kingston Da 240 giga Con Il coso Dove infilarlo Per renderlo Un Un SSD Esterno Praticamente Grazie 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 A Dantani Bubu Che è Bello Perché C'ha Il Il Cazzillo USB Integrato Prendete Questo qui 240 giga Che è poco Però ho pagato 30 euro L'ho pagato Della Kingston E l'ho preso Più che altro Perché volevo provare A fare un po' Di esperimenti Mi serviva Un SSD Da battaglia Quindi Quindi Mi serviva per quello Per fare qualche Sono tutto sporco Guarda che merda Mi serviva così Me la riverso Ho fatto Troppo Schiuma Dicevamo Continuiamo Pure Vediamo Cosa c'è Qua dentro Ma Si apre Un altro Regalino Questo Allora Questo qui E' tutto Spaccato Scusate Chiedo il rimborso Chiedo Lo rimando indietro Ho voluto Aggiungere Una piccola Sorpresa Ancora auguri E spero Apprezzerai Lei che è un intenditore Da Alessandro Sempre Alessandro Alessandro era quello Che mi aveva regalato Il Questo Ho aperto Ho aperto Solo questo Direi No Non so che si ho aperto Ragazzi Ah no L'altro era Era il Cioccolà Quindi si Mi aveva regalato I cubetti E' vero No E' inamovibile Tutta sta carta grigia Poi Allora Una cosa dura Cilindrica Aspettate 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 Ragazzi Non so come si fa Ragazzi E' come si Non Era un Kazoo L'avete Indovinato Come si Suona Il Kazoo Ha il Tappo No Non Devo Farlarci Dentro Devo Farlarci Vi Vi Prometto Che imparerò Ad utilizzarlo Ah Ecco Ecco Perché Non Si Riusciva E C'è più Niente Da qui E qui Kazoo Era dentro Quattro pacchi Attenzione Perché Questo E' bello Pesante Io Io non Mi Ricordo Più Cosa Mi Sono Comprato Io E Cosa Mi Sono Comprato Gli Altri Un Altro Regalino Questo Che Belli Che Siete Stati Siete Stati Molto Generosi Oh No Ragazzi Un Libro Questo Che Schifo Lo Sapevo So Anche Che Libro È Solo Avendo Letto Il Nome Quindi Lo apro Dopo Lo apro No Non Sono Le Barzellette Di Totti Quasi Marco Sarà Un Regalo Che Secondo Me Apprezzerai Anche Tu Molto È Un Libro In Vetro Ma L'ho Buttato Nel Camino Grazie Bundle Twitch Per Allora Questa Qui È Una Cosa Che Mi Sono Comprato Io Mi È Arrivata Oggi Tra L'altro Questa Faccio Vedere Che Figata Di Confezione Tra L'altro Che Buttana Mi Sono Dato Un Pugno Nella Panza Fortissimo Guardate Che Roba Sono Delle Cuffiette Tocchi di Classe Solo Per La Confezione Guarda Guardate Che Roba Figa Che Sono Le Cuffie One Moro Sono Queste Sono Le Triple Driver Se Poi Le Devo Provare A Modo Ma Ci Sono Le Confezioni Ok C'è Anche C'è Anche L'astuccetto In Pelle E Tutto Bellissimo Poi C'è Questo Qui L'adattatore Per L'aereo In Teoria Da Quel Che Ho Capito Il Doppio Coso Poi Qua C'è La Clippina C'è La Graffetta Per Tipo Pinzarsela Addosso Qua C'è Tutto Il Set Di Tappini Per Orecchie Anche Questi Qui In Memory Foam Però Con i Memory Foam Mi sa Che Si Smontano Tutti Li Proverò E vi Dirò Come sono Però la Confezione È Qualcosa Di Bellissimo Perché Cercavo Come dicevo Cercavo Un paio Di Cuffie Da Poter Utilizzare Al PC Che Siano Però Buone Che Mi Facciano Sentire Anche Per Giocare Robe Così Che Non pretendo Siano a livelli Di un paio Di cuffie A padiglioni Però Insomma Vadano Lì No Ci siamo Capiti Queste costano Costavano Mi pare 79 euro Ma su Amazon C'era la Spunta Da mettere Che ti faceva Uno sconto Del 15% Quindi lo pagate 67 Mi pare Comunque Tanta roba In teoria Dalle recensioni Che ho visto Sembrano Fiche Poi Ci arriveremo Ah Non era il telecomando Erano tappini Poi qui C'è l'ultimo L'ultimo Per modo di dire Dove ci sono gli ultimi due L'ultimo Pacco di una serie Qui è l'ultimo Regalo che mi son fatto Qui è effettivamente Il regalo Che mi son fatto Che mi ha fatto Mia mamma In realtà Me l'ha pagato lei Adesso vi faccio vedere Tra l'altro In una confezione Così grossa Di cui non ce n'era bisogno Tra l'altro Mi è arrivata Tutta sguarrata Ma per fortuna Ce l'abbiamo E poi Anche perché probabilmente Lo uso anche mia mamma Questo Quindi Alla fine No Non voglio Togliere questo Aspetta E' pieno di merda Aspetta Mi son preso Un bel coltellone Da CF Mi son preso E' terra di rose Grazie a cane Per gli auguri Grazie millissime C'è il suo preservativino Posso vedere Il bellino Che è Indamascato Molto bello Bestia Questo taglia Aspetta E' bilanciato Sì sì E' molto bilanciato Come tutto Dovrebbe essere Cos'è il miabi Una marca No Questo qui è Della Shanzu Della Shanzu E ho detto In giro Che è molto buono Quindi Ci ho creduto No Lo so Che la carta E poi Faccio solo Un pezzettino Ragazzi Taglia Però adesso Lo rimetto Nella sua Chiesa E non ci taglierò Mai più La carta Metto il proteggipiuntina Et voilà Sono tagliato Un dito Guardate Era uno scherzo Questo Era un joke Però bello Mi piace Il courtier Dovevo vedere Una cosa Però Appunto Cioè Questo qui L'avevo preso apposta Per metterci il coltello Solo che Fatemi vedere Sta tutto fuori Ma va bene Lo stesso Mi sa che Anche a me Sembra un po' Pericoloso E Davo Mi sa che Lo tengo Anch'io Nella Nella Confezione C'ha la sua Pellicolina Dai C'ha questo Preservativo No Al contrario Che Metto dentro Le sue Cosine Bello Se lo Ti dimentichi Non lo Usi mai Infatti Poi lo Tengo Per bellezza Ho paura Di Rovinare Il filo E qui Siamo quasi A posto Adesso come faccio Andare a riprendere Quelli là Ma io lo so Usare Cioè So cucinare Quindi Lo so usare Un coltello Poi Quello So che Utilizzi A parte Che è un coltello Molto versatil Il Santoku Quindi Eh Mi devo Allungare Un attimo E prendere Delle cose Dallaggiù Così Bronco Può andare A dormire Arrivo Il libro Però Vogliamo sapere Che cos'è Adesso Lo prendo Sono a Pecora Ragazzi Allora Uno E Due Ho dovuto Scavalcare Ho Ho tolto Il coltello Scavalcare Perché Ho Tutte Le cose Lì Qui Dabo Apro Prima Il pacco Da giù Apro Prima Il pacco Da giù O apro Prima Il tuo Prima Il tuo Va bene Allora Questo Qui È Un Regalo Che Mi ha Fatto Brutto Stronzone Questo Da parte Mia Ma In Cab I combutta Con quelli Degli altri Fai caccare Ogni giorno Di più Da Sdafacca Mario Trimoncino Dabo La butto Lì Eh La butto Lì Però Non c'entrerebbe Con gli Spizi Di Calabria Però se Mi hai fatto Un regalo Dalla mia Lista Desideri Dabo Mi hai fatto Il libro Perché È un libro Mi hai fatto Il libro Di Max Mariola No Sì Ragazzi Il libro Dei panini Di Max Mariola Ma cos'è Il Miabi Marco Ma io non so Che cazzo È il Miabi Ma che è Mica l'ho letto Dopo se mi hai risposto Scusami Sembra fatto Veramente Di merda Però Rilegato Con il culo Un pochino Sembra che si smonti Da un momento All'altro Guarda che faccia Che ha Max Dove è scomparso Max Dove sei Ho perso Guarda come ti sorride Guarda come ti sorride Eh? Eh? Come ti sorride Vabbè mia Terribile Ho sbattuto Grazie da buona Lo sai quanto è apprezzato Ora Adesso devo aprire Il pack Pesantissimo Ragazzi Spero ci siano Due chili Di induia E di soppressata Di peperoncino Va bene Adesso te lo dico Allora Ma che bella Aspetta Vi faccio vedere È una scatola di legno Ma non è vero Non c'è un bigliettino Però E lo so Mi ha detto Mi ha scritto Enrico Infatti Ragazzi Che pacco Hot Che è Allora Partiamo con questa Che la vedo là Ah no Questa qui Pensavo Forse è la bomba Invece no È la L'anduia di spilinga Già Già Azzeccata nel barattolino Va bene Piccantini di canabria Poi C'è La salsiccia curva La salsiccia curva Poi C'è Aspetta eh La schiacciata Questa qui Uso tutto il coltello nuovo Per tagliarle Così lo Lo fotto subito La schiacciata Aspetta Non si sente l'odore È implasticata eh Poi c'è Questi sono due cazzi Sono dei coglioni È una fessa questa Guardate Questa è La sopp Ah la soppressata è così eh Sembra Sembrano due palle Sembrano due testicoli Sembrano Durissimi Bello Bello Sembrano due coglioni Però Poi c'è Menchia Questa Che cazzo È La pancetta Arrotolata Piccante Però Ragazzi Per fortuna Che ho la fettatrice Perché questa la tagliare a coltello Mi sa che mi si smerda tutta Questa qui la taglio E sì che è tutto piccante Giustamente Questa se la taglio a coltello Mi sa che la La smerdo Questa miseria E il capicoggio Marco ma l'hai Come hai fatto Marco Come hai fatto Eh L'hai scritto prima che l'ho tirato fuori Il capicoggio Che da me questo qui Si chiama Lonza Labbo Sembra tutto molto buono Comunque Ti farò sapere Prossimamente Non c'è nient'altro Non credo Tra l'altro Per questo qui Dovevo ringraziare Chi Arianna Harry Bronco E Vado a vedere Twice Lino Antonietta Anche Lino Antonietta Ferri E Leo Grazie Belli Non sapevo ci fosse in mezzo anche lì Nella Antonietta Grazie Che bello Ma quindi sono delle magnifiche terre di Antonietta Queste Che bellezza Sono molto felice per tutto Tranne per il kazoo Quello mi ha fatto fare una brutta figura Devo mangiare Il Loro Choc Il goldone Come si aprono strani kitkat Ragazzi Ma io qui vi vorrei far vedere che merdaio Che ho combinato Cazzo ragazzi Sa di caramello A bestia Che lì Qui non si vede Ma oltre questa scatola Qua dietro C'è la pila di scatole Di merda Ma il libro di vetro Era quello di Max Mariola In effetti era molto fragile Ah ma si apriva dall'altro lato Golden shower Questo Orca miseria Orca miseria Non so tenerlo in mano Grazie Usus Avete sentito? Si è sentito il rumorino? No Quando mai Ti ho deriso Dai Non proprio Un pochino si deve essere sentito Piccolissimo Notte double Buono E devo finirmela prima di andare a letto Adesso sta cagata Ma chi me l'ha fatto fare? Come Magari mi mangio anche un mozzico Di salsiccia curva No non è una leffe È una ciuff Che è la birra con lo gnomo Guarda che bello Lo gnomo delle feci Che mi porta pure la birra Amici grazie veramente a tutti degli auguri E a chi ha pensato di farmi un pensierino Comunque Sono tutti belli E apprezzati Tutti Tutti No è quella da 8 gradi Minchia c'è la 13 Ma a 13 muoio Tanto domani mattina ragazzi La live La fa Marco A me che cazzo me ne frega a me A me che cazzo me ne frega a me Eh Non è che bevo È che ho tempo Marco Per Bere con calma E andare a letto tardi Tutto qua Mi arrivava anche un tagliere Avevo il coltello per tagliare gli affettati La birra Era al posto Io Ragazzi guarda Si potesse Dare Potessi dare agevolmente Il mio indirizzo di casa Lo farei purtroppo Come sapete Non si può Perché poi magari c'è chi ne approfitta E Queste cose qua No Però se Volete farmi un regalo facile Poi facile In realtà non è semplice trovare Le cose Però a me Tipo i cesti di Natale No Dove dentro c'è lo sfumante Il salamino I daralli La salsina buona Vedete Queste cose qui Io ne vado sempre Pazzo Sono Veramente Bellissimi E sarebbe carino Marco Perché mi mancano un po' Quei Video lì Però che non si trovano più Tanto Tanto Queste cose qui Sono sempre le migliori Regalate i cesti Di cibo Tanto il cibo Se magna E va sempre bene Con il cibo Non si sbaglia mai E dall'altro Pensate Un anno Per Natale Mi ha La mia ragazza La Cri Mi ha regalato Un cesto di Natale Che l'aveva preso A San Patrignano Che sua mamma Lavora Fa Reparto commerciale Lì a San Patrignano E quindi Si è fatta fare Un cesto Con tutti i prodotti Di San Patrignano Che gli fanno Delle robe incredibili Fanno buonissime Sono Sono veramente Fenomenali E dentro c'era tutta la roba Al tartufo Questo Quell'altro Tutte le robe qui E c'era anche Un Un pezzo Di lardo Di colonnata Al tartufo E io A me lardo Non piace Perché mi dà Fastidio la consistenza Io scarto il grasso Anche nel prosciutto Scusatemi Però non ce la faccio In bocca però Mi dà fastidio La consistenza Del grasso Del grasso In generale E però Faceva Un profumo Mi faceva Una fame Bestiale Quel lardo Al tartufo Era fenomenale L'ho messa nel pane E me la son mangiare Poi l'ho sputato Perché non ce la facevo Però l'ho assaporato Comunque L'ho assaporato Perché era buono Però mi dava fastidio Un fastidio bestiale Tutto Tutto Non mi piace Non ce la faccio Però minchia Che buono Che era Come si fa Ero tutto Ero spaccato Metà Un indirizzo Le poste Non penso Ci manderebbero Così tanti Regali Così A parte perché Cioè più che altro Abitassimo tutti Nella stessa città O più o meno Vicini Si potrebbe anche fare Probabilmente L'avremmo già fatto Però abitando Ognuno Per i ragazzi suoi In tutte le parti D'Italia Fare Dovremmo fare Una casella postale Per uno Capite che è un po' Una rotura di balle Tamponiamo Con le liste Desideri di Amazon Purtroppo È una cosa Che mi spiace Un sacco Perché mi piacere Cioè soprattutto Nell'ultimo anno Sarebbe stato Probabilmente Molto utile Tra virgolette E poi è capitato Il punto Che ha organizzato Vec Magari fa da tramite Però qualcuno Tipo su Discord Visto che lo conoscete Così avete fatto Da tramite Ci sta Però appunto Non è una cosa Che possono fare tutti Quindi a vivere Nella termosifone Agus Ci scanneremmo In realtà Noi ci odiamo Tra di noi Sono felice Ragazzi Mica perché Adesso devo stare qui A fare Il discorso Strappalato No Perché mi piace Un botto Aprire i pacchi Una cosa Che ho sempre Detto E sempre Dirò Che Veramente Io Vorrei Aprire i pacchi Tutta la vita Mi piace Un sacco Penso sia una malattia Perché io Sto mese Avrò speso Più di quello Che mi potevo permettere Perché Ho comprato Un botto Di robe Poi in realtà Queste robe qui Di tasca mia Per davvero Ho preso Speso poco Perché un po' Me le ha comprate Me le ha regalate Mia mamma Un pochino Ho usato i soldi Di amazon Dei termos E Poi qualcosina Mi sono comprato io Esternamente No non so Non leggi In realtà Non sono brillo Per niente Perché sono seduto Se mi alzo in piedi Probabilmente Rutto Però non sono brillo Per ora Tra un pochino Ora capisco Il motivo Da questo Delle lame Per aprire i pacchi No Questo qui Il colino L'ho preso apposta Per aprire i pacchi In realtà Si Ho preso proprio Un coltellino apposta Per aprire i pacchi Prima questo qui Perché è carino Ah che bello Mi è Semplice Semplice Non tutte quelle Tamarrate Eh Mi sono pagato I regali Perché noi Quando Quando voi Acquistate Le cose Su Amazon Attraverso i nostri Link Referral No Ci arriva la percentualina Come funzionano i referral Tutti i pelucchi Di merda Qui Delle scatole Poi ogni tanto Quando ne accumuliamo Un pochino di soldi Ce li dividiamo Tra di noi Cioè ce li dividiamo Poi più o meno In realtà Rimango nell'account Però ci siamo Facciamo 100 euro A testa Così possiamo spendere Ognuno 100 euro Salgono i ruttini Mi salgono I ruttini Un pochino E vedermi Mi avete fatto Che auguri Su Discord Che bellini Magari no eh Ah me li hanno fatti Me li hanno fatti Grazie Grazie Gentile Quanti meme ci sono Porca miseria Fatene di meno Che devo fare Il meme review Dobbiamo fare Non c'ho voglia di Poi dopo gli Scanso Ma ho mai ruttato In live ragazzi Non mi pare Questi kit Ah sono buonissimi Ma penso che mi stuteranno Alla svelta Non lo so Bello il casuto Dovevo imparare a suonarlo E Dovevo imparare a suonarlo Ma può essere divertente In effetti Becca adesso Song request Questo E Sono ancora pronto Dai Come ho fatto Aia Lo stavo smutando Dentro Lo stavo mangiando Scusami Sono si fosse una caramella Merdo E perché In effetti La faccia che ho fatto Era guimbo Sono la donazione Da 5,40 Non me la ricordo Ah ci sono anche Le membrane di ricambio Sono di ricambio Sono Si Se pippo Troppo forte Credo Lo so che è quella Di star wars Ma la ricordo Non è un Uno scam Per farvi donare 5,40 Non me la ricordo Per davvero Perché adesso Ho in mente Il signore degli anelli Come fa Mi viene in mente O il signore degli anelli Degli agnelli Oppure Pi 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 Grazie Zanna Molto gentile Stiamo cercando di imparare Vado a vedere un video Come si suona il kazoo Allora How To Kazoo Tutorial 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 ma non ci sono tutorial sul cattro, sono tutti stupidi come fa? è difficile fare non sto ascoltando ragazzi, fammelo cercare in italiano suonare il kazoo ma che mai fatto? come si suona il kazoo? no, episodio 4 kazoo, lo strumento più irritante dell'universo, ma ottimo per i pigri è difficilissimo, è meglio il flauto questo 1 minuto e 40 per favore l'audio dai ah però se ho tolto l'audio non sento ah ecco cos'era no, non lo so così forse te la ricordi e buon compleanno Morelli è questo giusto? non suona questo kazoo secondo me è fallato ragazzi secondo me non funziona ma no, di qua non funziona secondo me è rotto ragazzi no, si è... si, si è bucata la membrana eh si è bucata la membrana non funziona più lo accendo eh lo accendo eh italiano scarica l'app e associo all'orologio un attimo ragazzi associo l'orologio ma... come si fa? l'app ce l'ho già è crashata ah no, devo consentire l'accesso eh se per favore mi consenti ecco ma non mi... mi sta aggiornando l'altro mi sta aggiornando è il... l'Amazfit GTS 2e e tra l'altro questo qui nei sensori che c'ha dietro ha il sensore del battito cardiaco il sensore dei... il sensore dei fiuzzi manalici e ha anche il sensore che misura la... il tasso di saturazione del sangue è giusto quello che ho detto come l'ho detto che in tempi di covid è giusto cioè è utile c'è un saturimetro integrato praticamente ed è anche un... fa anche d'akazu sentite se voi lo mettete così però lo dovete pulire ogni volta per misurare l'ossigeno nel sangue esatto intanto il cinturino dopo ci rimetto il mio è bello solo che è diventato tipo marrone ormai lo dovrei lavare vai the last avete... ah ecco perché si dice alzi il gomito perché per farlo così ho alzato il gomito avete capito? si scoprono certe cose a volte non è che io sono ubriaco ho scoperto una cosa anche io l'ho scoperto prima dei 30 hai visto Ackman? ma perché... cioè sapevo che era alzare il gomito per la bottiglia però nella mia testa c'era sempre ma quanto cazzo è che... cioè alzo il... io al... giro il polso non è che alzo il gomito invece la bottiglia è grossa quindi devi darti lo slancio tutto... tutto storto per riempire ci sta ma... no che per... che scusa te bevi così Arcadia? è scomodo è scomodo bere così adesso posso... adesso posso... aggiungere questo più... orologio che è? ho passato la cazzo? l'ho passato... ma se non sei bere... scusami... ma... cioè... se... non bevo... non dico che bevo così come Salt Bay però... non si alza il gomito cos'è? mi silussa la spalla mi silussa la spalla ah... mi alzo il mignolo quando... Salt Bay... mi è risultato il fratello di Michele come riprova oh... strums che zimmerda come on... voglio un attimo ahà allora guida utente prima della continua ottimo sono 68 euro e 90 no erano un pelo di più iniziare c'è un nuovo aggiornamento lo sto facendo quindi me l'ha dissociato questo merda si dissocia 69 euro e 0 no non guido non guido sia mai dicevamo comunque riprendendo il discorso ho ragione io arcadia torto fino a qui siamo a posto passiamo al prossimo topic ormai mi sono preso bene facciamo una maratona stacchiamo domani mattina facciamo un ride a marco naturalmente era una cazzata questa eh non credeteci tra un po' vado a cioè va bene che domani la live non la faccio io però minchia cane per te è facile senza il gesto compito per portare il bicchiere alla bocca non è vero perché guarda cioè guarda adesso tu questo è il gomito sempre stato alla stessa altezza arcadia perché lo fai di lato e come devo bere cos'è bevo così bevo e comunque va giù va devo bere così eh 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 mio dio dai ammetti che diciamo le cazzate arcadia eh a meno che non ti attacchi alla bottiglia in quel caso in quel caso il gomito si alza quindi forse ha ragione marco bravo marco mi piace la tua tesi tu si che sai argomentare bene bravo eh ma quanto ci mette a trasferire all'orologio questa gazzata ho sbattuto il bicchiere nei denti mi sono fatto un male bestiale che cazzo c'è voglia di mettere a posto qui ma porca buttana tanto voglio provare anche le cuffiette io solo che sono laggiù ormai che vita la fatica il karma di cosa ancora sei convinta delle tue fesserie arcadia eh sei ancora convinta delle tue cazzate per caso sono l'estruzione per la fila coltelli ma io non ho capito che dovrebbero funzionare a bestia questi qui in realtà però questa è terra di rose ma c'è anche l'internet ma se adesso non è che le cose no una volta si pensava anche che il fuoco fosse magia poi dopo hanno scoperto che non era magia ma era una cosa naturale ma sai che non è magia stessa cosa con l'evoluzione magari si può capire che alzare il gomito è quando giri la bottiglia sul bicchiere non quando bevi è così semplice arriverà poi il giorno anche che i fantasmi paranormale arriverà il giorno che non sarà più paranormale perché si si scoprirà che sono un'emanazione del esce dalla terra una sostanza che ripresa con le videocamere sembra una forma antropomorfa può sembrare e così è l'evoluzione ma vogliamo stare ancora qui a discutere dai per favore devo riempire la serata protonica un attimo grazie ma io guarda che la penso così per davvero scusatemi una volta tutto ciò che non era ancora spiegato dalla scienza era paranormale no? tipo i fulmini erano le divinità ingazzate che sparavano fulmini nella terra adesso sta notito poi gli scienziati guarda che quello le pressioni le correnti ascensionali le nuvole le le oh l'energia si scarica in forma elettrica fatta da fotoni protoni adesso si sa tutto capito mi hai rovinato mi hai rovinato tutto mi hai rovinato ma cazzo io pensavo fosse la la zeus adesso non ci credo più dobbiamo fare un altro un altro dio dobbiamo fare zeus non va più bene non va chi faccio anche thor la norvegia loro thor pensavano invece non adesso sanno che non è vero hai rovinato tutto e si sono incazzati con lo scienziato pensate se però è così ragazzi esatto è quello che stavo dicendo agento sim vabbiamo quelli sono degli stronzi arcadia perché non esistono i terrapiattisti sono solo i troll non i troll quelli veri brutti sono quelli che dicono ah la terra è piatta adesso vado a scriverlo nelle pagine così che sembra vero la gente ci crede si incazza però non è vero non ci credono neanche loro a quello però è tipo appunto il paranormale è qualcosa che ancora la scienza non ha spiegato no aggiornato qui ma che storia tutte le robe nuove bellezza e dopo ci smanetto e chi spiega la scienza che cazzo vuoi che la spiega gli scienziati chi la spiega la scienza che domanda è scusa ma guarda che l'omeopatia ha un suo perché è come il placebo alla fine può funzionare secondo quel principio lì la terra è un dodecaedro pensa che storia vorrei vorrei stare sullo spivolo io poi perché si chiama terra ma che cazzo non so andiamola a cercare sono curioso mi hai messo la pulce nell'orecchio perché si chiama terra si chiama terra deriva dall'omologo latino terra che probabilmente era originariamente materia terza vale a dire secca arida correlata al verbo torreo presente torrido non ho capito grazie motta bello grazie terra da gaia grazie per gli auguri bello grazie anche del regalo la parola viene dal latino terra che a sua volta deriva dal termine di origine indoeuropea terza con il senso di parte secca opposta alla parte acquea quindi è una parola di uso fin dall'antichietà ma la terra è stata in passato anche definita orbe terraqueo anch'esso vocabolo latino orbe ha avuto dapprima il significato di cerchio e poi di mondo alla vagabonda anche il termine mondo è di origine latina deriva da mundus che vuol dire ordinato infine tra i tanti modi di chiamare la terra ci sono anche globo e pianeta globum sempre in latino indica qualcosa di qualunque cosa sferica pianeta invece quindi invece dal greco planetes che vuol dire errante la terra è il nome proprio però pianeta globo è generico un globo è anche giove o sbaglio giusto a cane no perché ora è da te magari anche si da me no 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 il nome della terra dovrebbe essere non lo so un globo non è un supermercato ma c'è Tirolo ma hai detto solo cazzate hai detto un globo non è un supermercato il supermercato è dove compri dove c'è l'alimentari la la e tutto dove c'è tutto ma il globo non c'è dove ci sono i vestiti il negozio di vestiti non è un supermercato allora diciamo le cose come stanno per bene non facciamo disinformazione porca miseria vi è piaciuto come vi ho trascinato con le dita vi avvicino a me porca miseria poi perché si si è anzionato l'area il nome dell'idea la terra no perché la terra è dove stiamo noi umani gli altri no magari ho detto una cazzata però ha senso quello che ho detto o sbaglio facciamo discorsi discorsi di un certo livello facciamo dei discorsi sopra eleviamoci poi se qua c'è il bollino rosso facciamo dei discorsi anche un po' più spi la terra si chiama così perché ci ho infilato il cazzo tipo no però era giusto per volgarizzare un poco perché è l'una e mezza era giusto per così però non andiamo oltre ritorniamo sui nostri passi va bene dai per una per la religione non rena Midgard era la terra di mezzo giusto Midgard quella terrestre dei comuni mortali mentre ciò che stava oltre era la terra dei mortali superiori considerate divinità logica si può arrivare tutto basta avere un po' di testa e pensare a quel che si dice pur avendo bevuto quasi un litro di birra da 8 gradi senza essere più abituato se dopo mi alzo faccio un rutto menchia sfondo l'anduia di spiling ma napoli c'è un rutto dentro il barattolino poi me la mangio tutto tutto che cola per fare un po' schifo comunque l'una e mezza dobbiamo un po' attenerci al al galateo della notte chiamiamolo così eh quell'orario dove tutto un po' i limiti iniziano a a scomparire eh ad annebbiarsi poi ci si arriva ad un certo punto dove una cazzata ti bannano il canale dritto e basta smr facciamo un po' di smr franci che dai spettacolo questo può essere smr, no? fa filo vediamo se funziona di più non c'è non c'è a posto? eh? eh beh usami era un po' di smr era per accontentare tutti non è che puoi stare sempre a pretendere che sia solo la stream fatta per te che vuoi solo te è per accontentare un pochino tutti dai no? sì ma quello era uno spin off diciamo così Matthew era uno spin off l'asmr prossima ogni anno questa data facciamo uno spin off mi sarebbe carina una rubrica tipo ogni anno fai uno spin off fai una puntata di una cosa un format che non c'entra assolutamente un cazzo con quello che fai ci sta l'anno prossimo mi faccio la camgirl tipo no? l'anno dopo faccio barba scura faccio tipo vi spiego che il bradipo è un animale di merda tipo l'anno dopo faccio il doppiatore l'anno dopo ancora faccio il cantautore l'anno dopo faccio il giocatore di calcio l'anno dopo il 3060 anche per questo il giorno il 3060 l'anno dopo ancora posso fare il leccio di carimusa proprio quello faccio cambio gimmick tipo il bradipo però solo per quella puntata cioè quel giorno lì faccio una live dove faccio quella cosa una puntata incredibile provare ad addentrare anche per aprire un po' la mente per addentrarti negli ambiti che non ti riguardano per vedere quanto è difficile no non ce l'ho più la vasca non ve la posso vendere l'acqua della vasca ma sto vivendo l'acqua del water dopo che ho fatto la cacca faccio un deepfake praticamente del pi adesso che vomito certo una donazione 10 squat minchia muoio alla prima donazione franci di squat ne faccio due e poi svengo per terra pensate che sono messo così male che sabato sono andato a fare la spesa ho preso non ho preso il carrello ho preso il carrellino quello piccolino solo che l'ho riempito e dovevo prendere ancora davvero ho preso davvero ho preso sta birra sta birra qui e due bottiglie di tè ok però non le potevo mettere sopra nel carrellino perché mi si schiacciava tutta la roba e allora ho fatto l'ho tenuto una l'ho data alla Cree le altre due me le sono tenute una in mano e una qua qua così così qui in mezzo no ero ero così ero no ancora mi fa male il braccio ho faticato troppo ragazzi mi fa male no mi fa più male però il giorno dopo mi ha fatto male cioè ieri mi faceva male il braccio e mi tremava tutto il braccio sono diventato una meba purtroppo non ho neanche più usato il VR per fare il fitness che l'ho fatto una volta sono stato fermo tre giorni bloccato tutto sfasciato indolenzito divento come gli uomini di Wall-E esatto una roba giapponese se hai il naso chiuso basta metterti una bottiglia sotto l'ascella tipo narice destra chiusa e bottiglia sotto l'ascella sinistra dovrebbe funzionare se hai il naso chiuso io non è chiuso c'è tipo una bottiglia tipo di plastica quindi così tipo ascella sinistra narice destra chiusa che cazzo come fa come è possibile scusa mia cane funziona solo con i giapponesi o come funziona come è possibile magia questa la scienza non l'ha ancora spiegato secondo me ci sta perculando come tutti quei tiktok che ti dicono se fai questa cosa qui e le fai poi ci provi non è vero niente non funziona un cazzo fa pressione in un punto che trovo liberare la narice ma cos'è forse però devi essere proprio raffreddato che roba strana Kenshiro ma next level finché non ti passa ci vogliono dalle due alle sette settimane invece questo qui che si mette che si mette la bottiglia sotto l'ascella e sta così ah forse così ci sono questi giapponesi che vanno in giro tutti così tutti sorti e poi mi fanno il coltello mi fanno fanno il coltello bello come lo riguardare c'è molto ridere però a cane che bello sono innamorato del mio coltello che bellino che è metto sotto l'ascella tengo modo c'ha la pellicola se no non lo terrei così come Harry Potter con la spada di Grifondoro ci ho riguardato Harry Potter alla camera dei segreti ieri c'è la fine Silente dice guarda guarda la la pada la pada di Grifondoro cosa c'è scritto e gli passa la spada no gli passa la spada così tenendola per il manico Harry la prende con le mani sulla lama ma sei deficiente sei perdone imbecille ti tagli tutte le dita ti tagli grazie non vedo l'ora che mandi la foto su discord dove la mandi dove la mandi fammi vedere dove la mandi ma che belli i vostri animaletti quante clip mi son perso non ho visto un cacchio ragazzi eccole dice anche di stare tipo ma non lo so ragazzi secondo me è una cazzata è una cazzata secondo me dai tanto pare va bene anche la sedia sotto e infatti ho visto l'immagine che hai mandato e dice praticamente no ci sono adesso con questa sedia naturalmente non va bene ma una con lo schienale più basso c'è la gente che sta così respira magicamente bene secondo me no non è magia la scienza non l'ha ancora spiegato bravo minchia annibale io spero di no in realtà c'ha troppi anni la regina non vorrei passare così tanti anni sulla terra più che altro perché ci arriverò sicuramente messo peggio di lei a quell'età grazie va un emesis grazie bello mi piace molto questo clima di intimità che si è creato questi ultimi momenti stiamo parlando del più del meno come fossimo a un bar tanto apro un attimo qui che devo richiuderla bene devo richiuderla con la maniglia ecco non sapete cosa però se lo sapete cosa più o meno si vede stiamo barlando stiamo guarda Akane se puoi farmi una relazione scientifica naturalmente quindi spiegata per filo e per segno muscoli premuti come tipo di bottiglia la circonferenza della bottiglia del disegno tutto qua una relazione ben scritta mi mandi il mano te lo correggo poi alla fine magari ti faccio stampo anche un diplomino fake te lo spedisco direttamente in Giappone se vuoi grazie però deve essere cioè con votazione finale la relazione Franci perché mi hai preso ti sembro uno che non legge eh mi hanno regalato un libro eh certo in italiano ma non so il giapponese io se mi hanno regalato un libro ci sarà un motivo non è che mi regalano un libro così voglio provare le cuffiette però che poi non sento un cazzo adesso non le provo poi vi dico domani si sente un botto sì oppure una merda sì oppure mi sente medio sì sì mettici molte figure a cane però se no non capisco bene anche se in italiano è una festa in giappone per il tuo comple e non lavoro ma che storia pensa che pensa se fosse vero tipo oggi il mio compleanno è in e in nawadi è festa scusato ho aperto google maps sono andato a cercare una città a caso oggi il compleanno dell'imperatore quindi fino a prova contraire tu sei l'imperatore del giappone storia oggi il compleanno dell'imperatore sono l'imperatore del giappone enghia è come il mio nonno che ha l'età di berlusconi uguale però pensa che è brutto se vissi in giappone sarei eclissato dal compleanno dell'imperatore sono le cuffie che ho sono le le logitech g433 molto buone e molto belle e poi voi avreste dovuto scegliere se fare il regalo a me o all'imperatore e non mi sarebbero arrivati tutti questi bei regali e si jack li abbiamo già scartati magari regalavano il kazoo all'imperatore ma non lo riprovo perché mi sento veramente troppo un imbecille a non saper suonare il kazoo soprattutto dopo aver cercato i tutorial su youtube e uno era il kazoo lo strumento per i rincoglioniti di merda hanno detto un affanculo bastardi saprete sarete bravi voi saprete bravi io ho suonato il flauto e basta nella mia vita che inculata memis pensa a te sì se non sono wireless queste magari si federico essendo giapponese però non in giappone perché se io adesso vado in giappone non penso di diventare pro player niente però magari fossi nato in giappone con l'abitudine giapponese e le usanze giapponesi forse sarei diventato un pro player di afk arena però tipo no vanno i giochi per i cellulari vanno un pro player di takoyaki sento un otaku pensate come sarebbe stata la vostra vita se foste nati in un altro posto tipo se fossi nato a scampia per esempio sarebbe stato tutta un'altra altre abitudini per dire no era un paragone era era per dire era magari sarei diventato come lino esatto chissà come fossero le vostre vite se foste nati a nawadi cerchiamo un'altra città fa vedere abbiamo territorio se foste nati che schifo le città americane ragazzi è tutta quadrata la merca perché qua dove c'è un po' di verde in mississippi pensa che ridere se foste nati a yazoo city yazoo city il bel nome è yazoo sembra quasi il kazoo magari nati lì per rosmosi sapreste suonare il kazoo marshal mo e modena naturalmente no lorenzo cos'è modena modena in america immagino stiamo parlando dell'america starai modena e me o e me o sarà montreal missouri ma come me o missouri bello il missouri però no veramente tutto quadrato hanno fatto tutte le geometrie quadrate le città le strade in america perché ci saranno arrivati dopo da noi ormai era tutto fatto a cazzo hanno dovuto lasciare così da noi è tutto tutte le strade tutte le strade in mezzo ai monti tutta una merda montreal in canada è vero avete ragione bello in canada c'è il manitoba dove fanno la farina è la farina di manitoba vero in missouri non c'è niente ma è quello il bello sono quei posti tranquilli campagnoli dipende come sono i campagnoli in america non so c'è il kansas city in missouri san luis in missouri san luis o finisce nell'illinois e metà e metà che bastardi in realtà in europa sono a cerchio perché sono attorno alle chiese che sono nel centro ma che storia sofia che ha fatto un raidino grazie si chiama la manitoba e rido un sacco perché c'è topa nel nome ti fa ridere memis noi sono circolari intorno alle chiese qui ma che solo roma in realtà roma milano c'è le città più importanti no in america è tutto quadrato e scusate gli sbadiglini questo inverno l'abbè raggiunto meno 24 gradi tanto bello non è stato immagino mi sarebbe gelato il pistolino domani farò la birra per la prima volta l'ha fatta un mio amico aveva comprato un kit con pentoloni tutte robe il luppolo il migaluppolo delle robe così gli avevo usato una merda però alla fine quindi non è stato stonks però magari auguri per la buona riuscita dai grazie al caglio siamo tutti attorno alle chiese ne abbiamo 20 miliardi si a roma non è roma è tutta circolare però come non è così scusami sono tutte le strade intorno a cerchio più o meno e poi dentro ci sono tutti gli arzigogoli di merda si c'è il raccordo che è circolare poi dentro in effetti tutto fatto di merda io le poche volte che sono stato a roma effettivamente poi in ogni città in generale però a roma te ne accorgevi particolarmente che la viabilità era un pochino le altre un pochino di meno tipo bologna bologna te appena arrivi a bologna sei in autostrada sei in autostrada che guidi a un certo punto vedi la scritta uscita da bologna bene devo andare a bologna prendo l'uscita a bologna esci devi al casello paghi si alza la sbarra accele multa multa di vieto d'accesso pedonale non potevi andare subito tutto fatto così a bologna io a bologna ci potrei arrivare in macchina io potrei arrivare in macchina a bologna in due orette scarse in due orette sono a bologna io non è che ci metto una vita ho dei parenti anche a bologna se devo andare a bologna ci vado in treno perché ho paura una bestia una paura bestia che se arrivo a bologna ci sono i cecchini che mi sparano alle ruote perché vado dove non devo andare è tutto zone zona blu zona piombo zona ti sparo se non ti devi azzardare minimamente ti sparo esatto io quando sono andato con Gatto a vedere l'unico spettacolo di Karim siamo andati con Gatto e potevamo benissimo andare in macchina anche Gatto perché anche cioè Bologna è metà strada tra me e Gatto siamo potuti due ore due ore stiamo in macchina tanto è lì abbiamo tutte le comodità del mondo possiamo andare via quando Gatto ci pare non abbiamo limiti per carità per carità vado in treno prendiamo un albergo attaccato alla stazione per carità è fenomeno è bestiale Bologna per girare a piedi è bellissima Bologna penso che sia una delle città più belle d'Italia ti hai sentito che che massima generalista la metto in top 50 delle città italiane per essere ancora più vago esatto esatto come una Bologna per essere entrata in una classifica l'età più belle d'Italia è Bergamo Alta non l'ho mai vista sono stato a Bergamo più pensante non sono mai stato a Bergamo per davvero chiedo dove sei sono di Fermignano è un paesino a confine proprio di Urbino sono a 5 minuti di macchina da Urbino nelle marche che bello è dire Fermignano è bello da dire Urbino è bella però io ci ho praticamente vissuto una vita quindi anche Fermignano sono sicuro sia bella cioè ha delle cose Fermignano pur essendo un paesino delle palle di 10.000 abitanti ha delle cose belle molto belle però non ci vivi non te ne accorgi è come quando sono andato in gita a Barcellona che tra l'altro ci siamo andati con l'autobus noi quindi abbiamo fatto proprio 18 10 ore di autobus per andare fino a Barcellona però ti accorgevi di tutti i cambiamenti cioè dall'Italia a partire da dove siamo noi fino a là tutto il viaggio è stata la roba più bella perché ti accorgevi di tutti i cambiamenti anche dalle coste passato il confine cambiava tutto era bellissimo è stato veramente bellissimo notte circo per tutte le città è così è normale tutte le città in cui vivi cioè se ci vivi non ci cresci quindi sei abituato alle cose e non ti accorgi della bellezza sono le giovedì l'università sono belle urbino madonna se si è ancora a 16 anni sì nave non abbiamo dormito senza aiuti chimici peraltro per 5 giorni cioè ci avete messo 5 giorni di nave per arrivare a Barcellona non è una terza perché non ricordo assolutamente nulla di quello che ho visto no io sì perché è stato in quinta superiore è stata la gita dell'ultimo dell'anno è stato molto bello eh ma forse Arcadia nelle città è un po' diverso perché una città è grande cioè io Ferminiano la conosco in ogni cioè piccola conosco ogni vicolo conosco ogni ogni punto sono abituato a vedere tutto di Ferminiano quindi non cioè non fa più effetto magari una città più grande te ne accorgi perché più grande non ti abitui mai non sto prendendo il cortello per riguardarlo di nuovo che devo mettere dentro le cose che prima non ce l'ho messo beh Arcadia ma infatti siete proprio un paese avanzato lì quale città ti piacerebbe visitare beh io non solo un tipo da città in realtà che c'è da fare di bello vicino a Ferminiano vicino a Ferminiano cazzo non c'è c'è niente cazzo c'è Urbino per vedere il palazzo Ducale le robe così c'è poi la gola del furro molto bella trovate le foto anche sul mio Instagram per dire anche c'è chissà quanto da visitare magari anche sia io non lo so c'è Bologna due ore volendo le grotte di Frassassi ci sono stato da piccolo però non mi ricordo quasi un cacchio mi ricordo che era freddo mi piacerebbe riandarci però la Cree si cacca d'osso delle grotte mi mettono ansia se prendessi la visita puoi fare dei bei gironi tra le coline a voglia l'avevo anche fatto da da giovine che cazzo è il tartufone quello della motta il il panettone della motta col cioccolato il tartufo se lo voglio mangiare lo mangio qui da me vengo in Calabria a mangiare il tartufo scusa ma perché che c'ha il tartufo di pizzo Calabro è un gelato ah quindi il tartufo ma quindi il tartufo gelato quello il la mezza sfera con quello che si prende al ristorante ma immagino fatto bene è di pizzo Calabro quello il tartufo ok c'ho presente quello che prende al ristorante che c'è bianco nero che è quello nero con il cacao quello bianco con il cocco tipo credo e non sapevo fosse di di lì però fosse un gelato de merda dei ristoranti quindi quello dei ristoranti dopo averlo mangiato devi prendere un Radaway sì ci sono le 2.11 ma stiamo veramente parlando di tutto e di più come fossimo a un bar è bello mi piace è un bel compleanno grazie perché veramente no dopo magari dopo la cena mangi la torta apri regali poi stai lì ti fermi fai le chiacchiere con gli amici è bello mi piace non è da caso preferisci whisky scozzesi o americani scozzesi tendenzialmente però non disprezzo gli americani grazie per gli auguri per davvero comunque non siete amici chi cazzo vi conosce però per di come se foste amici no la cane eh capisci le cose eh siete molto molto simpatici carini fate molto per me adesso ma allargatevi stronzi dai non pede il cazzo a volte spaccate i coglioni con una rottura di coglioni così e vai cioè non scherziamo rompi palle tanto il culo Arcadia sappiamo tutti che è bello pensavi di essere mio amico eh pensavi male Aegon che cazzo vuoi oh se vado alla clip possiamo sentire il momento esatto in cui il cuore di a cane si spezza poverina a cane le voglio un bene tantissimo per scherzo eh non è che adesso ho detto questa cosa ed è vera sempre per per esagerare il fatto che comunque è una ragazza simpaticissima eh grazie per la lusab ce l'ho ancora quel no gli ho persi non c'è più che freestyle con questa posso parlare così però è un po' imbarazzante quindi evito di farlo avete visto la mia faccia mentre lo facevo se provate a riguardarla si rattrappisce tutta la faccia perché ma che cazzo fai a sto imbecille giustamente giustamente il mixer sembra un giocattolino vado a premere i tastini che ridere è vero è un pochino imbarazzante vorrei fare vorrei fare che ne so tipo proviamo questo coso qui per non mangiarsi le unghie leggiamo anche il foglietto illustrativo c'è l'app sul telefonino addirittura questa è una lingua che non capisco questa pure come funziona come funziona ok ecco qua un attimo eh eh allora la prima frase che ho letto è questa ragazzi come funziona non intendiamo assolutamente eh non intendiamo assolutamente menare il camper laia cosa vuol dire è un modo di dire di che di cioè si non l'ho mai sentito io non intendiamo assolutamente menare il camper laia è tipo non dire cazzate immaginavo ma che non depliant altro pensavo di buttare via l'ex e rimettere il google però poi vedremo se desiderate di smettere se desiderate smettere di mangiarvi le unghie questo è possibile con una bacchetta sulle dita con una bacchettata sulle dita o in questo caso con una leccata sulle dita relex è il gusto amaro della scorza del pompelmo buonissimo continua una combinazione unica di estratto di pompelmo e denatonio il denatonio ha l'odore di essere citato all'onore di essere citato nel libro del record il guinness book of records come la sostanza più amara sulla terra ideale per aiutarvi a togliere il vizio di mangiarvi quella merde di unghie come si usa vediamo niente è già inutile gli fasi vera me ho paura che sia inutile una ricerca di mercato ipsos 2013 ha dimostrato che chi mangia le unghie predilige solitamente il pollice e il dito indice usatela solo sulle unghie e sulle dita che solitamente vi mangiate ah non su tutte poi vi mangio tutte le altre consente un dosaggio molto preciso della sostanza amaricante applicatela sul bordo dell'unghia e non sull'intera unghia potete applicarla anche sul lato dell'unghia se anche quest'area è spesso interessata giustamente non la metto su tutta l'unghia sto utilizzando il lato piatto del oppure la punta quante volte al giorno può essere applicato ogni volta che lo si ritenga necessario si consiglia applicarlo una volta al mattino e una alla sera regolarmente per cui stabilito un momento preciso in cui applicarlo utilizzare rilex per almeno 18 giorni la psicologia insegna che quanto più a lungo si resiste ad una cattiva abitudine tanto maggiori sono le probabilità che venne liberate definitivamente pertanto potete continuare con il trattamento anche per più di 18 giorni se seguirete le strutture come rimuoverlo rilex non può essere rimosso il gusto amaro diminuisce nel tempo e sparisce completamente dopo circa 24 ore ma se vi siete mangiati le unghie nonostante il rilex e volete togliervi il più presto possibile quel gusto amaro è sufficiente masticare un chewing gum per alcuni minuti non ce l'ho un chewing gum come faccio no è come quando ti sposi l'odore sa di officina comunque ma l'odore è buonissimo ragazzi l'odore è buono ragazzi è buono non ce l'ho è buono ragazzi che è buono Grazie a tutti. Grazie a tutti. Buonissimo ragazzi. Stavo per svapare... Ho sbagliato. Meglio non svaparlo. Sembra... È qualcosa che ho già sentito. Effettivamente ricordo un po' il pompelmo. Però è proprio l'amaro puro. Mi ricordo tipo la plastica o la gomma. No, forse tipo una plastica bruciata. Però non il sapore della plastica bruciata. Solo l'amaro della plastica bruciata. Non il sapore. Ahia, ho sbattuto il ginocchio e ho smosso tutto. Credo sia come da... Tipo prendi il copertone di un... Di un trattore... Della gomma di un trattore. La bruci. E te la metti in bocca. Però non senti il sapore. Senti solo l'amaro. Un pompelmo di gomma, eh. È un pompelmo di gomma. Solo che pensavo... Speravo fosse più... Più pungente. Perché nel senso... Non te ne accorgi subito appena... Allora, il problema di chi mangia le unghie come me è... Chi mangia le unghie come me... Il problema qual è? È che non te ne accorgi neanche quando stai mangiando... La maggior parte delle volte non te ne accorgi neanche quando stai mangiando le unghie. Se ti viene automatico non te ne accorgi neanche. Con questo qui metti in mano la bocca, senti la merda, dici... Merda, sto mangiando l'unghia. Smetti. Perché fa anche schifo. Solo che non è istantaneo. Quindi, boh, non so se funzionerà. Forse un pochino di pompelmo rimane. Non è male. Quasi quasi un altro mozzico. Ce l'ho... Me lo metto ovunque, dai. No, non ne ho messo poco. Basta, in realtà. Lo metto ancora, ne metto... E... voilà di qua non son capace come faccio no così voilà prossimo mese mi faccio il french si fa più il french non lo so cazzo l'odore è buon no mi son toccato il naso è buonissimo che schifo l'effetto no ormai sono rimasto un po' indietro scusatemi vabbè poi tra 18 giorni ragazzi vi dirò vi dirò bene come funziona vediamo vediamo un pochino le cose allora ci sono i cubetti quelli lì naturalmente adesso non li posso utilizzare c'è l'SSD come si apre che vuol dire 18 giorni è la psicologia Mary ha studiato che 18 giorni sono l'ideale c'è la plastica vuoi in mezzo taglio come si aprono queste gazzate come si aprono perché non c'è una linguetta di apertura facile l'ho fatto era facilissimo era effettivamente una gazzata questo è il ebbè questo miglior acquisto di sempre comunque fantastico per chi mi avete preso guardate che non sono maldestro io seriamente non sono per niente maldestro con la manualità io me la sono sempre cavata benissimo una delle poche cose di cui mi posso vantare è la manualità per davvero non sto scherzando me la sono sempre cavata molto bene ho vinto anche un premio una volta per davvero era al campeggio estivo però è sempre un premio sono l'unico che nei giochi estivi è riuscito a costruire una gru con dei pezzi di legno sagomati e dove praticamente a squadre si divideva tutto e una prova era quella di costruire questi questo coso questa gru praticamente con questi pezzi di legno e io ci ho messo tipo tre minuti perché era una gazzata a quanto pare non ce l'ha fatta nessuno cioè era un unico intelligente a quanto pare vediamo come funziona questa gazzata allora si apre qua si infila il ssd così infila facendolo slittare si è infilato l'ssd e nella sua sede premio per non essere maldeso no era era l'intuizione il premio il fatto che io avevo capito cosa cazzo dovevo farci con quelle robe come cazzo andavano costruite quelle robe lì non uscirà mai più da lì probabile ok quindi adesso questo è un ssd e l'usb questo qui che infatti il coso bello è che c'è l'usb un ssd così si è acceso un led però non mi sembra abbia fatto nessun rumore particolare di connessione però forse perché l'ssd è nuovo va formattato a modo vediamo un attimo gestione dischi non c'è non funziona devo collegare qua eh no qua funziona le porte davanti che sono un pochino spetta però non lo voglio collegare perché questa qui è una porta usb s punto mi piace vedi qua funziona doveva succedere prima o poi eh c'è ancora l'ammaretto in bocca comunque molto sì text out però non lo vede perché va formattato prima gestione dischi andava formattato non sono maldeso ma perché adesso è un ambiente un pochino troppo anche per me se mi permetti cazzo ne è cambiato ne è cambiato un dicks ma ci guarderò domani eh dai io direi che potremmo anche fermarci qui ma mica per niente perché devo mettere a posto tutta sta merda ed è tanta cacca quindi direi che possiamo fermarci perché lunedì domani è un giorno comune quindi dai ci fermiamo qua va bene io ringrazio veramente di cuore tutti quanti per avermi fatto compagnia in questo compleanno strano e soprattutto a chi mi ha fatto i regalini e quindi basta ci vediamo domani mattina con marco che fa blooms poi domani pomeriggio nel marchedì probabilmente ci sarò anche io perché parleremo un pochino di vandavision spoiler però quindi se non l'avete ancora visto e avete intenzione di guardarlo magari non non venite però per chi è volete sentire le cose succose venite pure dai va bene ciao belli ci vediamo domani basta sempre quello ciao belli ciao ciao Grazie a tutti.